Lavorando in tanti teatri, insomma è 39 anni che lavoro in teatro per cui i teatri hanno girato un pochino. Ora sono rimasta qui in zona per motivi familiari, però ecco al Festival Puccini si respira un'aria diversa da tutti i teatri. Tanto per incominciare, nel teatro si fa un'opera e ci si concentra tutti su quella. Al Festival Pucciniano purtroppo se ne fa, come in questo caso, cinque di opere, perché sono quattro ma in realtà Cavalleria e Tabarro sono due opere per cui è un pochino più complicato, diciamo, l'attenzione non va più su un'opera sola ma va su cinque opere per cui la cosa è un pochino più preoccupante. Come vi potranno dire le mie colleghe che anche loro vogliono tutti in teatro da un bel po' di anni, qui è diverso da tutti i teatri, qui non è lavorare in teatro, qui è creare una famiglia perché siamo tanti, siamo tantissimi, cioè ci sono tanti macchinisti, tanti sedali, tanti attrezzisti, però si diventa tutti come una famiglia, cioè si mangia assieme, si vive assieme insomma questo Festival. Il Festival in realtà non bisogna lavorarci, bisogna viverlo, si vive tutti insieme, perché poi il risultato dello spettacolo penso che si veda anche dal nostro lavoro di KIP, proprio tutti insieme, elettricisti, macchinisti, serali, donne delle pulizie, tutti servono qua, tutti contribuiscano al fine di realizzare uno spettacolo con l'anima, col cuore.